Per Edvard Munch, che forse è il più grande artista norvegese, il colore cessa di essere descrittivo per diventare funzionale all'evocazione di una profonda inquietudine esistenziale. Munch si è medesima con la propria arte, rappresentando la sua intera crescita interiore e il rapporto conflittuale con le donne. Una ricerca che raggiunge l'apice nel cosiddetto freggio della vita, un ciclo di opere incompiuto che comprende alcuni dei suoi più celebri dipinti, l'urlo e il bacio alla finestra per l'appunto. All'eccitazione della mente in continua ricerca di un senso ultimo e fondante rispetto alle imprevedibili sofferenze della vita, corrisponde sul piano figurativo una sorta di semplificazione deformante. Nel bacio alla finestra i volti degli innamorati non si congiucono per un istante a significare trasporto amoroso, ma si compenetrano fino a dissolversi. Quello che vediamo è un abbraccio informe che sembra essere la stessa ineluttabile violenza della morte. Se questo è amore, la morte non potrà che essere ancora più inquietante, inumana e mostruosa. E in effetti Monk ce ne ha dato prova spesso con le sue opere in cui colori, pennellate e composizione concorrono nel creare immagini di una profonda inquietudine esistenziale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!